Sarà storica quando si tornerà a colare acciare. Oggi certo è un accordo straordinariamente positivo. L'impegno che si è assunto Ginda è di produrre oltre 2 milioni di tonnellate, una cosa che a Piombino non si è mai vista, facendo un importante investimento di oltre 1 miliardo e 50 milioni. Questo investimento consentirà la costruzione di due forni elettrici e poi una produzione di acciaio che tenderà a crescere. Noi ci aspettiamo che la promessa di presentare progetti entro 18 mesi si riducano in questi 18 mesi e ci siano sorprese positive.